Eccoci troviamo qui al centro di riabilitazione, la RIA, e con noi c'è il dottore Umberto Germani che è il presidente di questo importante presidio sanitaria, è un'eccellenza della nostra sanitaria Dina, è un'eccellenza per quello che questo centro fa nella nostra provincia, perché qui ci si rivolgono tante famiglie, tante famiglie bisognose, con problemi anche dei propri figli, problemi psicologici, motori. Poi qui insieme a noi c'è anche il parroco, Monsignor Luigi Bardotti, è il parroco di questa parrocchia che oggi in questa visita pastorale del nostro Vescovo, Monsignor Delio Lucarelli, ci ha accompagnato, ci è stato vicino, ci ha dato quel supporto logistico e ci ha fatto sentire veramente Chiesa, perché solo se riusciremo a lavorare in questo modo come abbiamo fatto oggi, siamo una Chiesa che dà delle risposte precise e concrete senza chiacchiere alla gente. Allora gli chiediamo proprio al dottore Umberto Germani che ci spieghi, no? Che cosa fanno con esattezza. Intanto io approfitto, veramente approfitto per ringraziare di cuore Sua Eccellenza il Vescovo di Rieti, Nazareno e Don Luigi, perché mi sono emozionato? Perché è stato un momento in cui ho sentito vicino alla Chiesa e come me penso tutte le signore, tutti i bambini e tutti i ragazzi che erano alla funzione perché me l'hanno detto. Quindi grazie, veramente grazie. È stato un grande regalo. Noi qui ci occupiamo di riabilitazione in particolar modo dell'età evolutiva e personalmente ho cercato di portare un'esperienza di 25 anni fatta a Roma, in casa famiglia e in altri istituti nel cercare di coniugare la professionalità all'aspetto umano. Il nostro è un lavoro un pochino particolare e se non anteponiamo l'affetto umano nel trattamento delle terapie lavorando con i bambini non arriveremo mai ad effettuare una terapia, non arriveremo mai agli obiettivi se prima, come si dice in termini tecnici, non passiamo col bambino. Quello che io dico a tutti i miei colleghi e penso di poter dire che è veramente un bel gruppo, una bella equip, quando io passo per i corridoi vorrei sentir ridere e molto spesso sento ridere perché con i bambini bisogna ridere e poi raggiungere gli obiettivi professionali e terapeutici. Quindi questo è un po' lo spirito del centro e ripeto oggi è un giorno speciale, un giorno particolare, è stato un momento veramente di comunione con voi che siete venuti qui in qualche maniera ad aiutarci, a consigliarci, a guidarci. Ecco, approfittiamo allora anche della presenza di Monsignor Bardotti e gli facciamo come sacerdote una domanda un pochino particolare sulla Chiesa. Oggi il Santo Padre nella sua udienza ha detto qualcosa di particolare e di importante per tutti noi. Don Luigi, ci dici che cosa ha detto oggi il Santo Padre, per cortesia, se hai visto naturalmente in televisione il suo intervento. Quando un Papa parla al corpo diplomatico dei poveri, della gente che muore di fame e non parla dell'alta diplomazia, qui ci troviamo di fronte ad una Chiesa che veramente percepisce il problema della gente. La gente ha bisogno certamente di uomini politici che non si arricchiscano ma che facciano questo come un vero profondo servizio. E dirlo, ecco, lì a 180 diplomatici che erano radunati, ha destato un'impressione grande. Credo che anche la Chiesa, dopo queste affermazioni, avrà molta più attenzione. Nel nostro piccolo Arieti abbiamo sempre avuto molto attenzione ai sofferenti, ai poveri. Sì, la nostra povertà è diversa dalla povertà che ha in mente Papa Francesco. La povertà che viviamo noi è un altro tipo di povertà, però oggi lui ha detto che esiste anche la povertà morale e noi abbiamo da vincere e combattere più con questo tipo di povertà morale. Però, ecco, conosco, sono vent'anni che sto in questa parrocchia e quando voi avete cominciato ero già venuto qui dentro con veramente tanta, tanta speranza nella vostra presenza qui per me, parroco, è la presenza di Dio del Samaritano che va verso la gente, che va verso la gente. Vi ringrazio di cuore, siamo noi che ringraziamo voi, credo, di questa Eucaristia che è stata oggi un'Eucaristia veramente come ci ricorda il Papa. È difficile, non dobbiamo creare delle categorie ricche e poveri, siamo tutti esseri umani, ma oggi davanti a questo è chiaro che abbiamo percepito un'Eucaristia in cui Gesù è diventato veramente l'amico, il fratello. Meno male che li fate sorridere e ridere ai ragazzi, perché la risata dei ragazzi è la risata di Dio. Ecco, la pastorale sanitaria sta cercando di fare proprio questo cammino e mi piace portare il Vescovo perché è il pastore della nostra diocesi, perché dove c'è il Vescovo c'è la Chiesa. Anche per fargli conoscere che tante volte vengono dette delle cose contro la nostra provincia, contro la nostra sanità. Ecco, invece ci sono luoghi d'eccellenza come questo che non se ne parla mai. Ecco, allora è un punto di riferimento questo, questo vostro centro è un punto di riferimento. Grazie. È veramente, come diceva Don Luigi, ecco, un punto di riferimento che oggi proprio il Signore ha visitato questo centro per stare vicino a queste persone in difficoltà. Io ho visto gli occhi delle mamme, delle nonne che hanno accompagnato qui questi bambini e sui loro volti si vedeva proprio questa luce, qualcuno anche con le lacrime è venuto a ringraziare il Vescovo di eccellenza, oggi ha detto, ci ha dato una grande gioia, ci ha fatto sentire questa vicinanza della Chiesa. E noi come Chiesa vogliamo esserci, vogliamo esserci. Ecco, quindi grazie ancora di tutto quello che fate e se avete bisogno di noi, sapete dove siamo, noi ci siamo, vogliamo camminare con voi, con tutte le persone che hanno buona volontà di camminare. Non vogliamo imporre niente a nessuno, però noi ci siamo.